EUROVA. Pensavo che ci fossimo già chiariti... Che sono tutti raggiunti, tutto assurdo e ridico. Non voglio che precipitiamo nella moglie di una coppietta normale. E va bene. Quindi il lavoro è il lavoro. Il lavoro è il lavoro. il resto è il resto. E il resto è il resto. E il resto? Noi siamo il resto. Non ci credi? No. E mica hai cambiato di asoneone. Tu lo sai come la pensa? Io non sono così. Ah, l'hai detto? Sì. Quindi una storia d'amore è finita male. Io voglio continuare a desiderarti come ti desidero adesso. Grazie di amore. Non ce la faccio così. Perché non possiamo essere in una coppia normale, non ce n'è nessuno. Cata tantissimo. Sì, quella verità. Vabbia fuori, fuori! Stiamo andando da nessuna parte. Non voglio diventare arida come te. Per noi è tutto finito.